Ciao a tutti ragazzi, siamo a Laura e Roby, ho giunto un nuovo video. Oggi mi percepiamo la reazione dell'internet contro l'Italia. Si è iniziata proprio da 5 minuti, abbiamo visto la mezza cavolata dei gigio, quindi meno male che abbiamo deciso anche da poco. Quindi andiamo, vediamo un altro video. Speriamo che ovviamente si sentirà. Ovviamente ragazzi ci sentiamo un'attività, abbiamo visto una reazione alle partite, per vedere un po' come va, se vi può piacere. No, no. Dai, 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 dai! Dai fratelli, sbrigati! Dai, dai! vediamo sti inglesi del cacchio dai dimarco dai però porca di te mi ha ansia e vedrete però dal vivo come era già noi quando sei problemi e che ho ansia cosa tiri così? ma cosa fai? no no madonna grande Gigio mamma no madonna Gigio che cosa è? la presa è è da fare i complimenti traversa la presa la presa mamma mia si ha preso Gigio la presa mamma mia la presa la presa la presa la presa bello per il suo passaggio mamma mia mamma mia cosa mangiato spiegato tira un gol e a portavuoto, cioè a portavuoto no però è vicinissimo al portiere però stanno giocando bene, i cline sono forti io ragazzi sono solamente al 10 minuto vai figlio, vai, 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 vai dai ti manco, no no, poi ti manco, ma adesso, si pari bene ancora è che non stanno giocando a Wembley, almeno in un altro stadio mamma mia, mamma mia, l'ho vista dentro col colpo di testa mamma mia, stiamo rischiando un gol, mamma mia, si, si mamma mia, stiamo troppo, cazzo mamma mia, non puoi fare mai i passaggi di, dai no, certo, li fa, perché è del Milan eh, esatto di BIP ma perché è sempre così ma perché è ancora e 3B n'è stato uguale a signatò europeo chi? sul butto ho detto no me sembra che sembra il secondo minuto no, cioè bravo Gigi bravo bravissimo cioè non ti sembra un po' addormentata adesso cioè mi sembra che è un po' tutto rilento è un po' difficile, guarda a fare lì oh, è un po' di stanzi no, è che i miei amori sono un po' difficili noi ragazzi, cascate il mondo che ci sarebbe ancora essere a loro pezzi ma adesso dicono, ma cazzo, non c'è qualche squadra l'altro c'erano fuori, è proprio inglesi e vabbè, dove fanno ma c'è il controllo quindi, protegge il pallone spera che il terzo di fuori si riprenderà con una rimessa il favore dell'internet eh sì, mi è stato a fondo questo passaggio è difficile farlo di quel rapporto cervi perché non abbiamo bene a livello proprio con calco veloci io lo so, però a me sembra un po' lenti cioè rispetto alle altre volte che vedo comunque le squadre comunque giocare molto più veloci no passaggi molto più veloci se non è la mia impressione poi, ma non è sbaglio ma mamma mia, grazie per le grine che poi purtroppo ha perso il pallone se perde il pallone ma perchè magari non li dà la stessa importanza l'Europeo contro la Nations League e un'altra sì, ma comunque si è sempre comunque una competizione nella Nations League sì, però l'Europeo era tutt'altra Italia cioè vedi che cazzo è roba eravamo quasi di fare un laterale per l'Unilterra prima eh? che prima quando avevo fatto un po' una faccia da un miseria cioè un altro fa eravamo quasi di fare un laterale per loro cioè ci mancava un po' magari qualche centimetro di tempo ma possiamo parlare per loro affermare una posizione perché loro non possono costruzare e noi dobbiamo capire quando diciamo così quando hai il calcio dentro dopo che sono gente che non ho visto a parte di Marco che è all'Inter chi è? Frattesi Scamacchia Sassuolo se non sbaglio La formazione è messo dentro Di Marco, Cervi, Gatti, Di Lorenzo, Fratelli, Di Lorenzo, Gigi, Di Marco, Inter, Cervi, Lazio, Gatti, non lo so, Di Lorenzo e Napoli, Tramina, Juve, Sassuolo, Roma, Sassuolo e Atalanta. Vabbè dai, io mi metto un po', per fare un po', ci lavorano un po'. Ah, non gioca anche Nicola Varella per far vedere, è il palchino. Dopo. Bravo! Mamma mia, bravo Pessina che riesce a evitare l'arma. Pessina è bravo. Natural, per l'Inghilterra. Rosari. Vai. Dai, frattesi, dai Pessina. Di nuovo frattesi. Niente. Scimola per l'Inghilterra e recuperare il pallone. Però dai, ottimo. Pessi! Porca mia. No, no. Si sono andato, si è alzato un po' la voce, mi hanno detto prea sì, ma quando ho visto il portiere a pensare il battaglio, pensavo che aveva sbagliato il lancio. Ma quando mi manca, se non c'entro avanti, ho completo, sono tutti i calciatori che avranno, che prediligono il palleggio. Non ci arriviamo col palleggio l'ora. A voi mi manca anche i bastoni. Si. Mi mancano tanti che ti dicono l'Europeo, manca Spinazzola, manca Giorginio. Io si, manca Giorginio. Allora, sono freddo che i caglini. Hai diventato geniugino. Chi è giovane? Si. E' bello il mio bar. E' palo almeno. Raggielo, che cagli. Cagli. Chi è il mio caro? Che muore il caro. Chi è cagli. Chi è? ma che cavolo bravo frattesi no, non c'è caso però Gigi è un parcavolata per favore io ti prego no c'era un parcavolata e la passata nella zona no, era così ecco chi è? anche la parchina in città i gatti con la maglia della nazionale che spiace sto gatti? dove gioca? buh non lo so non lo so come vuoi sia Lucatelli 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 no no ti sei mangiato tu nali poi il portiere ha parato ha fatto una bella parata però mamma mia mamma mia cosa si è mangiata l'Italia qui qua è raggiato a zero e va se avessero viene alimentato bene le due occasioni da cuore giocare bravo pil ma pure non so ti adesso basta non puoi sbagliarti dai tionali giocarellina ti 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 domani c'è il tuo nuovo e di colpino il piatto c'è un attuale per i voli vado ma sono solo sbagliati dovrebbe essere nell'inghilterra bravo bravissimo pessina poi le fatte di spazzaria bravissimo ma ci siamo già svegliati semfatti che segna ma sennò vabbè è un'altra cosa vuol dire attenzione? tiri nello specchio ah attenzione e tiri attenzione e tiri attenzione e tiri giallo per? ah per fare il pallo ma lì è un ritardo per fare il pallo il pallo di tiri e volevo adegare questa posizione questa è l'azione precedente vedi dopo sempre qua bravo questa volta però che gli sono rotti i gatti a intercettare ah ah quanto ho avuto per l'anenatore a me e mi chiedeva che era così nooo 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 ma l'alte 4 gatti e via la parte della nuova città no ovviamente scherzo eh ora ora siamo solo ci andiamo già a 30 ma non c'è questo video 3 minuti ah ancora oh nooo meglio il fatto di piro dai fiesti arbitro dai arbitro fischi e basta su eh Dio guarda ragazzi questa volta veramente mi metteria il compito ma la miniatura ma la partita guardate ragazzi meglio così eh guarda una dormita una dormita ma nei capelli proprio niente ragazzi speriamo anche dalle prossime partite anzi speriamo anzi ve lo diciamo proprio che martedì che ci sarà l'età del giorno nel portogolo ci sarà la reaction perché ovviamente non possiamo che non siamo che mi piace nel senso non ci vediamo nemmeno noi perché ovviamente mia moglie guida con suo papà quindi non ci si vede ovviamente voi questo video lo vedrete la settimana dopo ancora quindi va bene sicuro che sapremo già come entra l'Italia Germania spero che si sbibili fuori cazzo perché non è possibile andare avanti così io esatto allora poi speriamo sarà un po' più interessanti e un po' più emozionati e speriamo che mia moglie non muoia adesso oh 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 niente lasciate tanti like tanti commenti iscrivetevi io so che mi piace a ridere però è vero è vero vuoi mettere un like è una partita che ti addormenti niente ragazzi così vedete il video dappertutto attivate la campanella ah ovviamente seguitatevi nel prossimo video ci sarà una nuova una nuova introduzione del canale ovviamente perché volevo un po' modificarla e abbellirla un po' e niente e noi ci vediamo e un prossimo video ciao